Finalmente Victor, sei ritornato. Qual momento ti porta alla mia corte? Mia regina, sono Richard. Eccolo. Vieni a me, ho bisogno del tuo sangue. E cosa volete qui da noi? Eric, non permetterci di guardarla. Cosa è successo? Mia figlia non si è andato con i ragazzi, non è più tornata. Non sento a combattere. Ma anche i vampiri hanno fuori. Sì. Vieni, sei un vampiro, hai fuori di una croce. Dai! No! 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 Grazie a tutti.